Radio Yes, la radio della città di Roma. Hanno dato ampiamente notizia nel fine settimana ed è un contrasto stridente perché oggi arrivano 4 rapini che sono morti servendo l'Italia e c'è una notizia che arriva da Genzano dove la polizia ha fermato 4 minori perché sono entrati in una scuola, hanno rubato una bandiera e poi l'hanno bruciata, una bandiera italiana. Io non vorrei fare il patriottardo a scoppio ritardato, però la loro dichiarazione è stata se stavamo solo a divertire, non so se sia giusto, opportuno, non vorrei passare per uno che fa polemiche strumentali, ma è una giornata in cui tornano dei militari chiusi in 4 bare che sono morti per un ideale, che sono morti per difendere la libertà, che sono morti sotto una bandiera italiana. Questi 4 ragazzi, 2 ragazzi e 2 ragazze che rubano una bandiera e la bruciano dicendo se stavamo solo a divertire, è una cosa che in qualche modo mi ferisce e credo che potrebbe far sentire feriti anche in maniera maggiore i familiari di questi 4 alpini. Io ricordo, sono dal 1964, ricordo che alle medie, ormai posso dirlo ai miei tempi, si faceva l'educazione civica, si studiava e c'era il rispetto della cosa pubblica, c'era la consapevolezza di essere cittadini, si studiava come funzionava il nostro paese o come almeno avrebbe dovuto funzionare e ci dava la consapevolezza di far parte di un meccanismo chiamato Stato, governato da una Costituzione. Mi sembra che oggi le regole stiano saltando, avrei piacere di parlare con i genitori di questi ragazzi che hanno bruciato il tricolore per fargli capire che probabilmente non è una bravata, non è una ragazzata, è un qualcosa di molto di più che certo viene sempre derubricato. La verità è che secondo me stanno saltando le regole, ad esempio, senza indugiare ulteriormente, da Roma passiamo a Milano, dove un tassista è in coma perché è stato aggredito dopo aver investito un cane. Il padrone disattento ha lasciato il cane libero, il cane ha attraversato la strada, il tassista adesso poi ci diranno se andava a 50, 70 o a 100, ha investito il cane, si è fermato, è sceso, ha chiesto scusa ed è stato aggredito e ridotto in coma. Mi sembra che la violenza ormai perme la realtà quotidiana, infrangere le regole, il fregarsene, il dire ma chi se ne frega? Ad esempio, stamattina ho accompagnato mio figlio a scuola, è in una strada che è a senso unico e puntualmente ci sono dei papà e delle mamme che con lo scooter infilano contromano, il bambino è sul sellino. Per il bambino vedere che il padre fa un contromano è normale e dunque cresceranno in questo modo. Allora io credo che tutti quanti noi nel nostro piccolo abbiamo una grossa responsabilità, quella di educare i nostri figli, quella di dare un esempio, quella di fare politica, perché il fare politica giorno dopo giorno non è entrare in Parlamento, non è rilasciare dichiarazioni, ma è anche comportarsi da cittadini e rispettare le regole, possono non piacere, ma se tutti quanti da un momento all'altro decidessimo di far saltare le regole e di non rispettarle più, sarebbe l'anarchia e allora qui non è una questione di destra, centro o sinistra, bisogna rispettare le regole nelle città, a Roma c'è tanta arroganza, vedo che a Roma c'è tanta violenza, vedo che a Roma c'è tanta mancanza di umiltà, tutti noi possiamo fare una cavolata in mezzo al traffico, ma non chiediamo mai scusa, via Flaminia la mattina quando la città si comincia a riempire dei pendolari, c'è la linea di mezzeria ed è piena di motociclisti, di scooteristi che la impegnano e già questo è vietato dal codice, ma poi hanno un'arroganza perché corrono e se uno poco poco cerca di spostarsi in negozi all'altra, incomincia un'ondata di protesta, un che non mai visto, ognuno di noi dovrebbe pensare meglio a quello che fa in una città come Roma, dove ci sono tante regole e dove bisogna rispettarle, ma non perché così automaticamente uno possa essere bollato politicamente con un'etichetta, il rispetto delle regole credo che sia il primo atto di rispetto verso noi stessi, provate entrare, anche se ormai non lo si fa più perché tutti quanti hanno un telefonino, provate a entrare in una cabina telefonica, la troverete? Se la troverete, l'ERCHA ed è una cosa vergognosa perché la cabina è di Tiberio Timperi, di Marcello Micci, di Giorgio Bruglioni, di Valentina Catoni, di tutti quanti noi e dovremmo avere più rispetto per queste cose, dunque io sono molto preoccupato per questa ondata di violenza, questa ondata di giustizialismo, fra l'altro oggi su Repubblica c'è un articolo molto bello dove si parla dell'ondata di violenza di cui si parla in televisione? Bene, sembra che l'Italia sia il paese europeo dove in assoluto telegiornali, quotidiani e trasmissioni di, una brutta parola, infotainment non fanno altro che parlare di violenza, è probabile che a forza di parlarne per osmosi uno ha simili questo clima e poi si comporti come sul set di un telefilm, ma le strade di Roma però non sono quelle del telefilm sulle strade di San Francisco, è tutta un'altra cosa, il tempo di un disco e poi di nuovo insieme. Notte rosa Sembra esplosa Per il telefono no, la voglia di te, che benzina ti incendi al motore, ore e ore a far l'amore Per il telefono no, voglio perdere te, notte rosa, dimmi chi ti ha presa, per il telefono no, Cercollo da te, cercollo da te, chiariamo ogni cosa in questa notte rosa, da E almeno una speranza, da te, che dolore e ore danza, sento già che dolore avanza, respirerò, lacrime e aria che mi sbronza Danza Danza Non potrei Vivere abbastanza Senza di lei Non potrei Senza una speranza Eccomi qui Sei da l'essere sia Notte rosa Prendi se vuoi Prendi se vuoi, questa vita la mia Sembra esplosa Non faccio farò, impossibile a sud Abracciando il tuo corpo per ore, ore, ore a far l'amore io e te E riaccosi qui, dopo Umberto Tozzi, da te, che dolore avanza, sento già che dolore avanza, Non faccio farò, impossibile a sud Abracciando il tuo corpo per ore, ore a far l'amore io e te A Roma c'è violenza, stavamo dicendo, c'è prepotenza, però abbiamo anche qualche buona notizia, però non arriva dall'Italia, arriva dal Cile, dove i 33 minatori stanno dando un esempio che dovrebbe essere spunto di riflessione per tutti, gara di solidarietà, tutti vogliono salire per ultimi, forse liberi tra il 48 ore, sarebbe una cosa su cui riflettere quando cerchiamo di rubare quel mezzo centimetro o più in mezzo al traffico al nostro vicino che non conosciamo e che magari non sta con noi. Torniamo a parlare di Roma, parliamo di immense scolastiche, è una notizia che incomincia a riaffiorare come un fiume carsico dalle pagine delle cronache di Roma. Il messaggero, a firma di Luca Brugnare e Laura Brugnolo, dedica molta attenzione per questo problema che riguarda tanto le materne quanto le elementari e le medie. I genitori denunciano che ci sia poca informazione sul redditrometro e sulle scadenze, scadenze nei vari municipi sono state personalizzate, ad esempio io ve le leggo, primo municipio 31 ottobre, 15 ottobre per il secondo, 30 settembre per il terzo municipio, 20 ottobre per il quarto, 15 ottobre per il quinto, 21 ottobre per il sesto, 21 ottobre per il settimo, così anche per l'ottavo, per il nono municipio, 14 ottobre, 21 ottobre per il decimo, 29 ottobre per l'undicesimo, 11 novembre per il dodicesimo, per il tredicesimo il 29 ottobre, per il quindicesimo il 20, per il sedicesimo il 29 ottobre, il diciassettesimo il 26 ottobre, il diciottesimo il 30 ottobre, il diciannovesimo e il ventesimo il 29 ottobre. Io stamattina ho provato a chiamare Laura Marsiglio, che è l'assessore della scuola, le ho mandato un messaggino, a meno che non abbia cambiato numero di telefono, non ha risposto, lei ha detto che, così ha dichiarato sul messaggero, che verranno fatte delle verifiche agli uffici locali, uffici locali che se lo diterranno potranno ulteriormente prorogare la scadenza, ad esempio, al decimo municipio pare ci sia della Bolgia, con questi tre numeri 35, 36, 37, che sono le stanze della paura, così la chiamano i genitori, sono le stanze dove i genitori devono portare la documentazione per ottenere uno sconto sul costo della mensa, costo che è zero se si è una fascia che va da zero a 5.165 Euro, siamo a livello della assistenza, da 5.165 Euro fino a 15.000, da 30 a 43 Euro, poi da 43 fino a 50, se siamo un resido che va da 15.000 a 25.000 Euro, da 25.000 a 30.000 invece da 50 a 55 Euro, da 30.000 a 45.000, da 55 a 80 e a partire da 45.000 Euro in poi 80 Euro. Il costo del pasto, gioco a ricordarlo, al Comune di Roma è di 5 Euro e sono 160.000 i pasti che vengono quotidianamente serviti in tutte le mense scolastiche di Roma, è un problema da affrontare, spero di poterci tornare con Laura Marsiglio al telefono e chiudo però, prima di arrivare la linea a Marcello Micci, con i banchi sponsorizzati, è successo nel primo municipio, una volta si diceva, il nonnetto dove lo metto, dove lo metto non si sa, il nonnetto comunque ancora una volta riesce a fare centro, perché se i bambini delle scuole del primo municipio avranno dei banchi, lo devono ai nonni del primo municipio che si sono tassati, avranno rinunciato a qualche gita, ma hanno donato 2.000 Euro per acquistare banchi a serie alle scuole della nostra e di questa zona. Grazie a tutto, a Roma c'è stato e ci sarà domani in Tiberi ed Imperi, adesso Marcello Micci, buona giornata.